Eccoci qua, andiamo a togliere tutto quello che c'è dentro e prepariamo il barattolo per la nostra soia. Detto così sembra una ricetta di cucina, vabbè, comunque vado a togliere tutti questi fiori secchi perché non ho comprato il barattolo per loro. E sì, ho preso un barattolo più semplice possibile perché preferisco così al momento. Ne ho provati di ogni, quindi va bene così. All'interno la situa è questa. Ma vabbè, esce un profumo di camomilla allucinante. Vi giuro, è profumatissimo, troppo contenta. Mi sono completamente dimenticata di raschiare via l'etichetta sotto. Adesso non ho veramente tempo per cercare di toglierla senza fare danni. Questo è il massimo che sono riuscito a fare, ma va bene così. Ovviamente lo sciacquo bene bene, con l'acqua sempre. Acqua super pulita e fresca messa. Prendiamo soia. E andiamo a travasarla. A questo punto siamo pronti per trasferire la nostra marimina nel nuovo barattolo. Lei è una marimina incinta, quindi non sarà sola, ovviamente. Ed eccola qua, nella sua nuova casetta. Missione compiuta. Eccola qua, molto molto carino. Barattolino bottiglietta. Né troppo grande né troppo piccolo, direi. Dimensione perfetta. Il sughero non mi fa impazzire, però per adesso va più che bene. E voilà!